Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato So che cosa mangiare un giorno vi piacciono tanto e io amo registrarveli Partiamo dalla colazione Per colazione tazzona di tè con i mitici abbracci Sto periodo altro che a ruota ma ancora di più Pranzo ero dal mio fidanzato e mi ha fatto il brodo con i tortellini Che altro che la morte sua a sto periodo ma ancora di più Saranno un grandissimo Immenso classico ma sempre buonissimi Per merenda invece poi ad una certa sono tornata a casa mia E mi sono mangiata questo pacchettino di taralli Molto buoni anche loro con vicino un tè nero ai frutti di bosco E per cena una cosetta leggera Mia mamma ha fatto il mitico pollo con i peperoni Classico alla romana Era una vita che non lo faceva e vi dico la verità Mamma mia era strepitoso Come poste cena invece una tesola digestiva Non tanto per la proprietà digestiva Come vi dicevo anche in un'altra cosa mangiare un giorno Ma perché mi piace proprio il sapore di come è composta Camomilla, finocchio, anice È buonissima Ok ci vediamo domani con un nuovo video Alle 20.30 C'è un bacione gigantesco e a domani